Mini sceglie la Kermess parigina per presentare al mondo il settimo modello della sua gamma. Si tratta della Pace Man, la sorella atletica della Countryman che rispetto a lei perde le due porte posteriori. Quest'auto è una sorta di pioniera per il suo segmento perché non appartiene né alla categoria dei SUV né a quella del crossover. Piuttosto è una SAC, ovvero una Sport Activity Coupé. Motori e versioni sono gli stessi della Countryman ad eccezione della One e della One D. Il range di prezzi parte dai 24.500 della versione Cooper a due ruote motrici fino ad arrivare ai 31.500 della Cooper S All4.